Buongiorno a tutti i nostri spettatori e a quelli che ci seguono sui canali social dell'Amico del Popolo, su YouTube, su Facebook. Oggi abbiamo come ospiti due volontari della Lega Consumatori, si tratta di Giovanni Lussato che è il presidente della sezione di Belluno di questo organismo che ha una dimensione nazionale e qui vicino a me l'avvocato Giulia Piazza, che noi conosciamo bene qui all'Amico del Popolo, svegliamo subito gli altarini, vero Giulia? Perché Giulia quando era molto più giovane, sono passati pochi anni, ma forse ancora indecisa sul suo futuro, non lo so. No, era durante il liceo, era per un programma di alternanza scuola-lavoro. Giulia aveva fatto un'esperienza qui all'Amico del Popolo e poi ne era nata anche una collaborazione che è durata per un bel po' perché Giulia faceva la nostra corrispondente dall'Alpago e quindi abbiamo qui con noi una collega che poi ha scelto un'altra strada e è diventata avvocato ed è l'avvocato di riferimento appunto della Lega Consumatori qui a Belluno, per la provincia di Belluno. Allora Giovanni Lussato, presidente, diciamo due parole su questa Lega Consumatori, chi è e cosa fa questo importante organismo? La Lega Consumatori è nata a livello nazionale nel 1971 e pertanto è una delle più vecchie associazioni di consumatori in Italia, è la seconda in verità per anzianità ed è nata a Milano da una costola delle Acli. Pian pianino poi si è attrezzata e si è espansa sul territorio nazionale, infatti la nostra è un'associazione nazionale e nel Bellunese è stata aperta intorno a circa 25 anni fa dalla signora Masiero Giuseppina e da allora è partita e ha cominciato a operare anche sul territorio nazionale bellunese. Quindi una lunga tradizione di presenza anche qui a Belluno e forse non tutti è chiaro, quindi proviamo un attimo così a chiarire il panorama, esistono anche altre associazioni consumatori. Voi appunto fate la Lega Consumatori fa riferimento alle Acli, le altre due importanti che sono sulla piazza qui a Belluno, Giovanni? Sono la Feder Consumatori che fa riferimento alla CGL, la Adconsum che fa riferimento alla CISL e poi c'è anche un'associazione che fa riferimento alla UIL. Queste quattro associazioni noi diciamo siamo dopo la Feder Consumatori probabilmente l'associazione con più presenza di pratiche sul territorio anche se noi abbiamo solo la sede a Belluno, se c'è qualche volontario che vuol darci una mano dall'Alpau o da Cortina o dal Feltrino benvenga che ci... Magari potreste allargarvi. Ci allarghiamo, ci allarghiamo anche in altre zone. Quindi insomma siete probabilmente i secondi per dimensioni. Direi di sì, spero che la di Consum... o insomma siamo... Vabbè, siete vicini. La cosa forse da sottolineare interessante è che il vostro ruolo non è un ruolo privatistico vorrei dire, ma il lavoro che voi svolgete viene riconosciuto dal Ministero per cui... Sì, queste associazioni che ho appena indicato sono autorizzate dal Ministero e fanno parte di un CNCU che è un raggruppamento delle associazioni autorizzate dal Ministero. Ci sono poi anche altre associazioni non autorizzate dal Ministero che operano privatamente, insomma. Ci sono anche quelle... E immagino che il fatto di avere questa autorizzazione dal Ministero, questo riconoscimento da parte del Ministero comporti anche una serie di obblighi che magari sono anche onorosi. Obblighi che sì, obblighi che sì, ad esempio. Onori e onori, perché insomma siete ufficialmente riconosciuti, però... Certo, però bisogna avere una linea telefonica, bisogna avere una linea mail, bisogna avere un ufficio possibilmente di proprietà o in affitto. Nel nostro caso siamo ospiti in affitto al Centro Giovanni XXIII e quindi vi do anche l'indirizzo Piazza Piloni. Siamo vicini di casa, siamo vicini l'altro corridoio rispetto alla sede dell'Amico del Popolo e agli studi di Radio Piave da cui vi stiamo trasmettendo che è il centro diocesano di Belluno. Per cui è sorta anche questa disponibilità di questa chiacchierata e quindi tutte queste oneri chiaramente influiscono sui costi che dobbiamo sostenere tenendo presente che la Regione ci finanzia ma ultimamente insomma con un bel po' di difficoltà e in ogni caso siamo soggetti in qualsiasi momento a una visita di controllo per vedere se effettivamente facciamo, se il numero delle pratiche che indichiamo è quello possono anche, come hanno già fatto, farsi inviare la fotocopia dell'iscrizione per certificare che quell'iscritto è obbligatoria per poter svolgere questa attività e comporta anche un onere per chi si deve rivolgere a noi Perché adesso spieghiamo così, noi possiamo immaginare che un cittadino si trovi di fronte all'ipotesi di essere stato truffato oppure comunque è stato spinto, si è fidato, ha firmato, ha sottoscritto qualcosa di cui poi non è più convinto, vuol provare a tornare indietro, ha bisogno di un aiuto insomma perché ormai spesso i rapporti si riducono al telefono, si riducono a parlare con un call center, magari con un operatore che ti risponde da chissà dove nel mondo le persone magari anziane sono perfino in difficoltà a saper cliccare il numero giusto sul telefono perché ti passano o no, e voi provate, riuscite, potete cercare di essere di aiuto proprio in questi casi, il cittadino viene da voi, si iscrive, voi aprite una pratica e agite per suo conto praticamente proprio così, e quindi ecco qua l'aspetto di carattere sociale che fa parte dell'anima delle associazioni consumatori e particolarmente la nostra che fa riferimento alle Acre cattolico, ecco ed è proprio questo che noi ci siamo accorti della nostra, perdonatemi utilità, il fatto di essere come riferimento per telefono in dubbio ma anche di persona quindi la gente sa che se proprio non riesce a scrivere questa lettera o non capisce viene da noi e il primo aspetto è quello di sfogarsi, è già questo è un punto che ci evidenzia insomma rispetto a tante altre attività ma poi in qualche caso nemmeno voi riuscite a dare delle risposte tecniche visto il livello ormai anche di complessità dei contratti e delle situazioni che si possono presentare e quindi voi potete avere bisogno dell'avvocato e qui scatta il ruolo dell'avvocato Giulia Piazza che fa da riferimento per l'associazione che cosa ti chiedono Giulia? ci diamo nel tuo appunto, siamo stati colleghi giornalisti sì io appunto collaboro con la Lega Consumatori e intervengo nei casi in cui ci sono delle situazioni che necessitano di un'interpretazione legislativa che magari i volontari della Lega per quanto non riescono a dare quindi serve un occhio diciamo giuridico sulla faccenda che può riguardare spesso e volentieri appunto i contratti non richiesti abusi contrattuali, clausole vessatorie che vengono firmate dai consumatori i quali non si rendono conto, gli viene strappata una firma senza che si ricordino di averla fatta oppure anche telefonicamente tante volte e poi diciamo che per lo più gli ambiti in cui la Lega opera se non l'abbiamo già detto mi pare è quello della telefonia e dell'energia però arrivano a volte anche cittadini che possono avere problematiche che riguardano per esempio molte illegittime che gli vengono combinate quindi in quel caso serve capire se bisogna fare ricorso o meno se c'è la possibilità di ricorrere dal giudice di pace, dal prefetto oppure casi di recuperi crediti posti in essere da società di recupero credito appunto in maniera illegittima Quante pratiche all'anno vi capitano Giovanni? Se vogliamo parlare di telefonate, pratiche vere e proprie che apriamo intorno ai 150 pratiche e qui è proprio l'apertura di una pratica che può essere poi controllata dalla regione se vuole per vedere cosa ci è arrivato, che reclamo ci è arrivato, che necessità e come abbiamo risporto Ma per avere un'idea su queste 150 pratiche quante richiedono l'avvocato? Beh diciamo che per fortuna non ci sono molte che richiedono l'intervento dell'avvocato perché l'avvocato come abbiamo sentito, come avete sentito ci dà una mano da un punto di vista volontaristico quindi meno lo disturbiamo e più contento è Poi magari il parere che vi dà una volta vi serve anche per trattare altri casi Perché alla fine se non capisco male la casistica può essere anche piuttosto ripetitiva Sì, 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 in effetti sì Non si sta scoprendo nulla di nuovo a parte le truffe telematiche ma per il resto non c'è granché di nuovo negli ultimi anni Avete già dovuto occuparvi anche di truffe telematiche? Sì, purtroppo lì siamo spiazzati parecchio perché non abbiamo né i mezzi gran parte di queste truffe provengono da paesi irraggiungibili e quindi irraggiungibili nemmeno dai nostri governanti insomma e quindi sulle truffe telematiche è veramente un disastro Ecco per cui noi quando possiamo avvisiamo e questa è l'occasione prima di accettare un contratto o un qualsiasi impegno per telefono o per i moderni mezzi con l'iPhone, smartphone e compagnia bella si faccia molta attenzione perché non è escluso che il problema provenga dalla Nigeria piuttosto che dalla Cina piuttosto che dalla Serbia e dopo non è facile riuscire a recuperare i soldi Tante volte anche noi come giornale pubblichiamo notizie che ci arrivano dai carabinieri o dalla polizia insomma che segnalano la frequenza di questo tipo di inganni C'è la polizia postale che fa del suo meglio Beh io devo confessare che avevo chiesto il vostro aiuto perché sono stato vittima di un fatto estremamente spiacevole non so ancora come andrà a finire non sappiamo come andrà a finire ve la racconto visto che è in prima persona quindi mi assumo la responsabilità di quello che posso raccontare il 3 gennaio i vigili urbani di Roma mi hanno fatto una multa per sosta vietata a Roma solo che io il 3 gennaio ero a Belluno non ero assolutamente a Roma come ben sapete ho potuto anche fornire il link di una trasmissione che proprio quel giorno ho registrato qui come stiamo facendo oggi noi e una delle cose più spiacevoli ne abbiamo parlato per cui forse servirebbe anche un intervento politico ci siamo detti è che l'interlocutore cioè il comune cioè chi mi manda la multa non risponde non risponde si fa una fatica incredibile ad avere un come si dice a stabilire un dialogo insomma perché? perché nel momento in cui ricevi la multa ti dicono hai qualcosa da ridire fai ricorso o al prefetto o al giudice di pace ma sono dei costi e sono delle incognite importanti e per dire come va a finire io ne abbiamo parlato voi sapete bene com'è la storia lo diciamo anche a chi ci segue consigliato ho chiesto al comune non tanto di annullarmi la multa ma di verificare se erano proprio sicuri che quanto scritto nel verbale corrispondesse all'accertamento fatto dall'operatore perché temevo che la mia targa fosse stata clonata e effettivamente con un accesso agli atti costato un euro e sessanta ho potuto ricevere la prova che era stata sbagliata la trascrizione della targa sul verbale però questo cosa vuol dire? questo vuol dire che è partito in automatico quando io l'ho segnalato ai vigili un ricorso al prefetto di Roma che però si prende per rispondermi o per non rispondermi col silenzio assenso il doppio del tempo che ho io a disposizione per pagare la multa senza incorrere in sanzioni questo esempio non tanto per portare il mio caso personale ma per dire che ce ne sono migliaia appunto che queste situazioni sono tipiche e il cittadino di fronte a queste cose è inerme perché tante volte anche solo nel caso mio ho dovuto fare questo dialogo l'ho fatto attraverso la PEC la posta elettronica certificata credo che molti abbiano anche semplicemente difficoltà a scrivere un testo che sia idoneo poi devo dire anche colgo l'occasione appunto per dare un piccolo consiglio prendendo spunto dalla tua vicenda che non sempre il cittadino conosce i rimedi che ha a disposizione per esempio nel caso della multa noi sappiamo c'è la possibilità di ricorrere al prefetto o al giudice di pace normalmente il cittadino questo lo sa perché viene scritto anche nel verbale di contestazione che gli viene notificato però non sa che potrebbe appunto fare anche una richiesta di annullamento della multa in autotutela cioè l'amministrazione ha il potere di annullare d'ufficio un atto illegittimo nei casi in cui l'illegittimità sia palese diciamo come nel tuo caso in cui la targa era sbagliata quindi c'è stato proprio un errore grossolano di trascrizione e quindi in quei casi basta appunto dire all'amministrazione alla prefettura guardate sono stato ingiustamente multato spiegare la situazione e a quel punto l'amministrazione può intervenire d'ufficio e annullare quell'atto ecco questo non ha i costi e gli oneri che può avere fare un ricorso però il cittadino normalmente non sa che ha anche questa possibilità a disposizione certo e quindi qua rientra in campo il ruolo che potete svolgere voi dobbiamo anche raccontarla tutta ho promesso che ne avrei fatto cenno in questa trasmissione mi sono rivolto a un nostro parlamentare all'onorevole Federico Dincà per chiedergli se non sia possibile immaginare anche un intervento legislativo ne avevamo parlato prima con voi qui ci sono delle norme su cui si potrebbe probabilmente mettere mano per limitare questo tipo di problemi questo della multa è una cosa che capita a migliaia se non è vessatoria questa io so benissimo che ero a Belluno non ero a Roma e mi tocca l'onere di dimostrare perdendoci ore tempo soldi che non devo pagare quella multa perché quella multa è sbagliata ecco il deputato Federico Dincà mi ha risposto incoraggiandomi ad andare avanti nel senso che bisogna che le amministrazioni pubbliche gli enti in questo caso il comune di Roma capiscano che il cittadino giustamente si oppone a tutto il diritto di opporsi di fronte a un'ingiustizia palese e chissà che magari vengano adottati metodi nuovi a me sembra un po' poco ne abbiamo parlato probabilmente Giulia ti avevo chiesto avvocato piazza probabilmente si tratterebbe di agire a livello a livello di codice della strada si bisognerebbe emendare diciamo un articolo del regolamento di attuazione del codice della strada che attualmente prevede che il verbale di contestazione abbia determinati contenuti ecco magari intervenendo la in quel punto e introducendo qualche altro elemento che il verbale deve necessariamente contenere ad esempio tu proponevi giustamente una foto penso che basterebbe una foto per mostrare per rendere evidente se è presente una discrepanza perché al limite uno finché non fa un accesso agli atti come ho fatto io non sa se c'è un problema nel verbale quindi probabilmente se ci fosse qualche elemento in più per capire poi per dirti nel caso specifico l'indicazione del modello del veicolo è stata ricavata dal pra partendo dalla targa sbagliata troppo facile non hanno trascritto troppo facile non lo so probabilmente manderò al comune di Roma anche questa intervista così si rende una conta non hanno trascritto quanto il verbalizzante sul posto aveva notato riguardo al modello di macchina l'hanno ricavato dal pra allora appunto Giovanni tu parlavi di vessazione qui il cittadino è veramente bastonato inerme e subisce un'ingiustizia purtroppo questo tipo di multe sono all'ordine del giorno il tuo non è un caso isolato ed è sempre un'occasione anche per i comuni e le province per fare cassa anche in qualche modo perché spesso il cittadino paga perché è convinto che sia la soluzione più veloce meno onerosa e quindi è pur sempre un incasso illegittimo noi potremmo anche da qui lanciarlo l'appello a chi ci segue i nostri parlamentari cominciamo da qui insomma basandoci proprio su quello che ci sta dicendo adesso l'Evvocato che con poche parole di emendamento probabilmente al codice della strada potremmo anche fare in modo di limitare che certe cose accadano a proposito di multe scusa se ti interrompo proprio in questi giorni ci è arrivata una segnalazione di un'assurdità di multa e qui bisogna intervenire modificando il regolamento da selva di Gadore cosa è successo? è successo che su un eccesso di velocità è stata fatta una multa di un certo importo indicando che c'è la possibilità di pagare il 30% in meno entro 5 giorni dalla 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 sanzione il pagamento viene fatto al terzo giorno mi pare e però cosa succede? succede che la banca questo è successo 3 anni e mezzo fa 4 anni fa circa la banca nel fare il perché è stato fatto il pagamento tramite banca nel fare il bonifico la valuta la valuta del bonifico arriva al sesto giorno quindi passiamo via i 5 giorni quindi colpa della banca chi doveva pagare sapeva di aver pagato in tempo ma la banca ha eseguito il pagamento dopo la scadenza la banca ha eseguito il pagamento con le modalità che 4 anni fa erano specifiche di qualsiasi bonifico cioè oggi faccio il bonifico e il bonifico arriva al sesto giorno con valuta dispostata non c'è malizia da parte della banca né insufficienza la banca ha applicato la tecnologia che in quel momento dava la possibilità oggi come oggi sappiamo che il bonifico può essere immediato volendo anche allora non era probabilmente così al sesto giorno non è più valida il 30% lo scopo e va bene pago la differenza ma se io lo vengo a sapere tre anni e mezzo dopo come in questo caso come in questo caso con un atto notorio che mi raddoppia la multa e quindi mi applica ai 170 euro altri 300 quindi anziché pagare 170 euro ne pago 470 ebbene solo e semplicemente perché il bonifico è arrivato il sesto giorno e la legge è chiara su questo non è la data di cui parte la volontà e quindi pare di vete ma l'incasso l'incasso e qui bisogna modificare le cose è possibile quindi questa cosa di cui abbiamo letto anche sui giornali vi state occupando voi quindi come lega consumatori ci stiamo occupando come lega consumatori in questo momento nel senso che insieme alle altre norme da eventualmente portare avanti con i nostri deputati noi non possiamo fare nulla perché la legge è ben chiara su questo insieme alle altre norme è da portare anche questa norma cioè la deve essere la data della espressione di volontà e quindi la data in cui io faccio il bonifico che deve essere valida non la valuta di arrivo anche perché Giulia avvocato probabilmente bisognerebbe fare un ragionamento anche sulle sospensioni dei tempi perché bisogna tener conto che intanto i tempi vanno avanti voglio dire per cui uno crede magari di aver pagato non ti arriva nessun avviso non so trovo abbastanza pericoloso questo discorso del silenzio assenso per esempio il prefetto potrebbe non comunicare di aver accolto un ricorso e tu rimani lì sospeso mentre i termini vanno avanti sperando che poi ti arrivi una buona notizia o non ti arrivi o non ti arriva proprio devi intenderla come buona notizia ma questa mancanza totale di comunicazione assenza di dialogo assenza di dialogo dal punto di vista del cittadino è qualcosa di opprimente proprio vabbè allora noi per oggi potremo anche credo concludere qui lasciandovi l'invito a tornare anche per presentarci casi particolari perché penso e pensiamo che sia giusto proprio che il cittadino senta che ci sono degli organismi oggi abbiamo parlato di voi lega consumatori ma come abbiamo detto c'è la di consum c'è la feder consumatori tutte riconosciute dal ministero perché il cittadino possa sentire di avere qualcuno a cui rivolgersi se si sente di non sapere proprio cosa fare di fronte a un'ingiustizia di fronte a un'incertezza di fronte al dubbio di una truffa quindi grazie a Giovanni Lusato presidente della Lega Consumatore il quale manda un appello ai nostri politici ricordatevi che esistiamo e che abbiamo bisogno di essere perché dovremmo anche noi cercare di partecipare a qualche corso di aggiornamento in modo che ma quelli costano se non abbiamo un sostegno quindi ricordatevi cari onorevoli e rappresentanti del mondo politico che sarebbe opportuno sostenerci molto ma molto di più e invece lancio un appello ai cittadini ricordandogli che siamo a disposizione e appunto anche solo per una consulenza non necessariamente quando si sentono di aver subito una truffa ma anche in via preventiva perché magari prima di firmare un contratto hanno bisogno di un parere di una sì questo è anche importante vi propongono qualcosa non siete sicurissimi se firmare o no fatevi lasciare le carte non firmate passate alla lega consumatori chiedete che cosa ne pensano e loro potranno aiutarvi anche con il supporto di un avvocato addirittura per capire un po' se la cosa può nascondere delle insidie questo mi sembra importante sì e se invece avete già firmato e pensate di aver subito una truffa venite al più presto possibile perché sappiamo sempre che ci sono 14 giorni per recedere dal contratto questo lo stabilisce il codice del consumo quindi potete sì prima venite meglio tornare dietro rispetto a una firma però bisogna farlo subito bisogna farlo molto molto presto va bene scusami mi sono dimenticato non vorrei che si offendessero e comunque sono temi che non seguiamo per quanto attiene a problemi problematiche di salute c'è cittadinanza attiva il tribunale del malato che è segue unicamente quelle cose per cui è corretto completare il panorama che abbiamo dato certo nel frattempo abbiamo anche fatto passare in sovraimpressione i vostri recapiti ma lo ripetiamo la sede vostra è qui in piazza Piloni a Belluno ma siete contattabili attraverso il telefono siete contattabili attraverso la posta elettronica quindi insomma è facile trovarvi è facile riuscire a mettersi in contatto con la Lega Consumatori per un parere per un aiuto per sentirsi un po' protetti quando il privato ma a volte anche il pubblico insomma ci fanno sentire fanno arroganti e fanno arroganti e fanno gli arroganti grazie a voi grazie anche al pubblico che ci ha seguito in questa trasmissione ciao a tutti salutoni